Buonasera da Giuseppe Recca dalla redazione, le notizie aggiornate di oggi sabato 23 luglio denunciati quattro giovani riberesi accusati di violenza sessuale nei confronti della turista finlandese di 27 anni a Trapani nella notte tra giovedì e venerdì. I quattro tutti incensurati restano a piede libero perché proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Trapani che hanno acquisito le immagini delle telecamere del ristorante del centro storico dove vittime e presunti aggressori si sono conosciuti mentre cenavano, poi si sono recati in un appartamento di un bed and breakfast e naturalmente tutta la vicenda è ancora da chiarire. Sono in corso nella giornata di oggi online nei Galzebo in tutta la Sicilia, le primarie del centro sinistra regionale in vista delle elezioni regionali. Si tratta di un confronto che rischia però di diventare inutile dopo la rottura nazionale tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Le forze progressiste hanno però deciso di farle comunque. Il risultato della sfida tra Caterina Chennici, Claudio Fava e Barbara Floridia sembra comunque passato in secondo piano rispetto a quanto sta accadendo. Un poliziotto dell'ufficio volanti della questura di Agrigento mentre si trovava in una pizzeria con la propria famiglia a Favara libero dal servizio salvato con la manovra di Emlich, una bimba di quattro anni che non riusciva a respirare poiché aveva ingerito un cubetto di ghiaccio. Dopo diversi tentativi e alcuni attimi di apprezzione la piccola è riuscita finalmente ad espellere con l'aiuto del poliziotto il cubetto e a riprendere a respirare regolarmente riacquistando colorito in volto. Altra aggressione a danni di un medico all'ospedale Villa Sofia a Palermo ieri è toccato a un dirigente di guardia del pronto soccorso pediatrico. Lo ha denunciato Giuseppe Bonsignore, segretario regionale della Confederazione Italiana Medici e Ospedali. Una dottoressa sarebbe stata ripetutamente spintonata dai genitori di un piccolo paziente che si rifiutavano di far fare il tampone nasale per escludere la positività al Covid. Sono intervenuti gli agenti della polizia. Il piccolo paziente è risultato poi positivo e per questo trasferito all'ospedale di Cristina, il medico vittima dell'aggressione a sporto denuncia nei confronti dei genitori del paziente. Plastic Free On Loose, a capo di altre 16 associazioni, sarà protagonista domani pomeriggio a sciacca di una passeggiata ecologica in località Mucciare. Obiettivo quello di riscoprire questo angolo di territorio se accenze e di sensibilizzare contro l'uso smodato di plastiche, attesa la presenza di numerosi volontari e cittadini. Tutto questo grazie all'iniziativa coordinata da Domenico Vernagallo di Plastic Free On Loose, Sciacca e Menfi. Domani giornata di musica nel centro storico di Sciacca con la prima edizione del Green Valley Pop Fest, un programma in piazza Angelo Scandaliato, presentata da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, popolari speaker di Radio 105. La manifestazione si svolgerà alle ore 18, dalle ore 18 in poi saliranno sul palco tanti artisti di spessore nazionale tra cui Boom Dabash, Elettra Lamborghini e Rov. Chiudiamo con il calcio, con la preparazione precampionato dell'Unitas Sciacca che comincerà lunedì prossimo in vista del campionato di eccellenza. Gli ordini dell'allenatore Totò Bruculeri, 25 calciatori, ma la campagna acquisti, la campagna di rafforzamento è ancora in corso e naturalmente prima dell'inizio del campionato, previsto a settembre, la squadra potrebbe cambiare volto con nuovi arrivi. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata e naturalmente buon fine settimana. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.